Morire sul lavoro è uno scandalo inaccettabile per un paese civile. È il monito del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime e gli incidenti sul lavoro. Tre morti al giorno, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, sottolinea il capo dello Stato, soprattutto quando dietro agli incidenti c'è la mancata applicazione di norme. Chiara Romanello. Tre morti al giorno e oltre 2.000 infortuni non sono numeri ma persone e famiglie che in una giornata di lavoro vedono cambiare la loro vita per sempre. La ANMIL presenta questi dati nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. L'anno scorso i morti sono stati 1.208, oltre tre al giorno. Nel 2022 gli infortuni sono stati oltre 700.000 in forte crescita rispetto all'anno precedente. L'impegno del governo c'è, ha detto la ministra del lavoro Calderone, servono più formazione e una rete di controlli sempre più efficace. Dobbiamo partire dai bambini delle scuole, poi l'associazione si sta muovendo anche con le testimonianze nelle imprese. Quindi i controlli a campione vanno anche bene ma soprattutto bisogna arrivare con dei percorsi formativi. Per l'ANMIL occorrono semplificazioni per l'accesso all'invalidità da lavoro garantita dall'INAIL e più tutele per le famiglie delle vittime.